Ciao a tutti, per un matrimonio felice è meglio non avere figli. Questo almeno affermano delle statistiche inglesi, nei quali viene riscontrato che comunque la nascita di un figlio per una coppia è sempre, anziché un evento che unisce, normalmente è un evento che tende, diciamo, a disgregare un po' la coppia, per diversi motivi. Primo, sicuramente si crea un'unione, diciamo, su un piano logico-razionale, eccetera, eccetera, però, ad esempio, su un piano sessuale, spesso l'uomo, il maschio, quando la moglie diventa anche madre, tende molto più facilmente a identificarla come madre, appunto, anziché come amante, per cui diminuisce di molto l'erotismo che ha nei suoi confronti, quindi la sessualità poi ha un drastico calo anche da parte della donna, che tende a canalizzare, diciamo, molte energie libidiche che prima erano rivolte al compagno, vengono canalizzate sul figlio o sulla figlia, e quindi, diciamo, perde anche lei attrazione verso il compagno. Quindi c'è normalmente un calo forte di attrazione erotica. Se poi a questa si aggiungono altre problematiche, magari di natura emotiva, perché comunque si va a creare, diciamo, una sorta di triade, che ciò che prima era gestito in diade viene gestito in triade, per cui anche affettivamente, diciamo, si ha uno sganciamento tra le due persone, tra la coppia, perché buona parte, anche qua, di affetto viene riversata da entrambi sul figlio, che diventa una sorta di catalizzatore da un certo punto di vista, ma che da un altro punto di vista va a disgregare l'unione della coppia, per cui se subentrano poi anche altre incomprensioni, problemi, magari di altra natura, è facile che magari il matrimonio non finisce, ma che non sia più un matrimonio felice, fondamentalmente. Diventa un matrimonio in cui magari stanno assieme, proprio perché hanno un figlio, ma non provano più piacere, felicità, per cui va tenuto conto anche quando uno si decide, insomma, sapendolo prima è possibile prevenire. L'utilità di queste statistiche è che se uno lo sa già prima, diciamo, sa magari dove mettere dei correttivi, degli antidoti, affinché possa continuare a mantenersi un matrimonio felice, anche con l'arrivo di uno o più figli. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!